tiramisù pandoro ponete 4 rossi di uovo in una terrina unitevi 6 cucchiai di zucchero montate le uova unite 250 g di mascarpone tagliate le fette di pandoro necessarie per creare il fondo del vostro dolce tagliate dei cerchi e bagnate il pandoro con latte e caffè farcite il pandoro con la crema al mascarpone decorate con scaglie di cioccolato e lasciate riposare in freezer per almeno 3 ore grazie 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 grazie